Alberto, questo venerdì la confraternita di San Michele di Valdipino metterà in scena una sacra rappresentazione. Di che cosa si tratta? Sì, venerdì quindi 19 alle ore 20 e 30 si darà luogo a questa terza edizione della Passione di Nostro Signore, che ha un carattere religioso ma anche culturale. Sulla piazza del Paese, di fronte al nostro oratorio di San Michele, ci tengo a specificare a Valdipino e non nella chiesa parrocchiale, nell'oratorio in fondo al Paese, verrà rappresentato, diciamo, tutto il susseguirsi delle vicende che porteranno a morte Gesù. Ecco, un coinvolgimento emotivo oltre che all'assistere ad una rappresentazione che ha la sua teatralità e che è il frutto di un lavoro intenso di una comunità. Certamente, ci vogliono mesi per preparare questo evento perché è fatto con costumi che ogni anno si arricchiscono sempre di più di particolari. Tutto si svolgerà nella piazza del Paese e poi proseguirà per le vie del Paese, che sarà molto più suggestivo perché è illuminato dai ceri e dalle fiaccole dei tanti partecipanti alla manifestazione. Quindi, armature, costumi dell'epoca, per riscoprire, andando dietro a Gesù, andando dietro alla sua croce, che oltre alla logica della morte c'è quella della vita. Per arrivarci, subito oltrepassato il ponte d'ingresso, a destra la stradina in salita che va verso la piazza Sant'Antonio. Bene, venerdì prossimo, 19 aprile, 20 e 30 a Val di Pino, un'occasione per vivere questa rappresentazione teatrale, per introdurci davvero al triduo pasquale con la Pasqua di Ressurrezione.